Fino a giovedì 20 settembre, Palazzo Cisterna, sede aulica della città metropolitana di Torino, ospita una mostra dedicata all'esposizione di una trentina di drappi del Paglio dei Semnasal di Pianezza, vessilli delle varie edizioni del Paglio, importante evento storico-culturale che animerà il Comune metropolitano il prossimo fine settimana, 15 e 16 settembre. L'esposizione, inaugurata sabato scorso alle presenze delle autorità locali, metropolitane e regionali e dei gruppi storici Ventaglio d'Argento, Granatieri Brandeburghesi, Amici del Paglio e Associazione Icona, è un'occasione unica per ammirare vere e proprie opere d'arte realizzate da artisti e pittori, tra cui anche Felicia Casorati. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17. Grazie.